Ritorniamo in diretta per continuare a parlare di quello che sta accadendo all'interno della nostra città, della città di Roma, soprattutto sul litorale, siamo ad Ostia, siamo di fronte a un assedio, forse la parola è troppo forte, non lo so, lo chiediamo subito all'ex prefetto attualmente a capo dell'autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza di Napoli, Achille Serra, buongiorno. Buongiorno a lei, ho sentito soltanto la parola assedio, mi sembra un po' esagerata, fermo restando che sono anni che ormai le organizzazioni criminali di stampo camorristico in particolare hanno tentato di infiltrarsi e in parte ci sono riusciti sul litorale e non solo, anche nella capitale, cioè a Roma-Roma. L'esempio lo abbiamo avuto dai numerosi sequestri di strutture, di immobili che ci sono stati anche al centro di Roma, ma soprattutto a una serie di eventi delittuosi soprattutto nel litorale o sul litorale. Sì, soprattutto sul litorale, infatti effettivamente è questo quello che stiamo raccontando, cioè un aumento probabilmente del traffico di droga, un aumento anche di organizzazioni criminali, delle vere e proprie organizzazioni, abbiamo raccontato di arresto di latitanti, di una bomba, di un'esecuzione, quella di omicillo come era chiamato. Sì, sono fatti di malavita organizzata, non sono fatti sporadici di questo o quel malvivente, di questa o quella banderella di poco conto. No, se traffico di droga c'è, traffico di droga e c'è, mi pare di poter dire, scaturisce da organizzazioni vere e proprie, dedicate al traffico della droga. Però non solo, io penserei anche a fatti di sfruttamento della prostituzione, a gioco d'azzardo. Ecco, c'è un ambiente che si è andato col tempo trasformando sul litorale e che credo che le forze dell'ordine siano molto attente su questo. Però è soprattutto la gente che è la gente romana per cultura, allontana ogni cultura di pazioso, non siamo in altre regioni d'Italia. Ecco, però la gente appunto deve aiutare le forze dell'ordine perché da sole non riuscirebbero a venire a capo del problema. E' proprio quello che stavamo dicendo poc'anzi anche con il giornalista Massimo Lugli che ha seguito questa e molte altre vicende, quasi tutte le vicende di Cronaca Nera che sono avvenute negli ultimi tempi nella capitale. E chiedevamo proprio in che modo la gente potesse aiutare. Ma, vede, questo è una cosa sempre molto facile, ma devo dire che la gente, pur respingendo, l'ho già detto, la cultura di stampo mafioso è poco propensa perché bisognerebbe riformare la giustizia. La giustizia è una giustizia lenta, lunga, burocratica, che chi testimonia di un fatto è costretto ad andare tre, quattro volte davanti al pubblico ministero, davanti al GIP, davanti al tribunale, davanti talvolta anche alla Corte d'Appello. E questo scoraggia sotto certi aspetti. Poi in alcuni casi necessariamente va tenuta riservata la figura del testimone, va tenuta riservata e preservata. E allora questo dà sicurezza alla gente perché la gente si accorge facilmente se c'è nello stabile persona diversa dalla società civile e quindi più dedita a trattici vari. Lo si vede dal via vai di malviventi o dal via vai di gente che si va ad accaparrare la bustina di droga, l'ambiente che si frequenta. Ecco, la gente attenta, con le antenne alzate, può essere veramente un punto di riferimento importantissimo per le forze dell'ordine tradizionale, non solo. Ma anche la polizia municipale deve necessariamente fare quel salto di qualità che io auspicavo da prefetto e che ancora oggi auspico. La polizia municipale può essere un elemento straordinario, di straordinaria importanza. Basta con il vigile urbano, visto solo in funzione della contravvenzione per divieto di sosta o perché ai comuni fa comodo intascare soldi dall'eccesso di velocità. No, il vigile urbano può e deve essere un punto di riferimento anch'esso per le forze dell'ordine tradizionale. Ecco, ci vuole una mobilitazione generalizzata, una mobilitazione che deve coinvolgere anche le guardie giurate. E tutte devono sentirsi parte di questo problema, perché solo così si riesce a frenare un'avanzata che non illudiamoci, non solo c'è, ma che proseguirà nel tempo. Vede collocare la camorra a Napoli, in Sicilia la mafia, in Calabria l'andrangheta. È ormai un errore di straordinaria grossonalità. Da lì sono le regioni da cui parte l'organizzazione criminale di qualunque tipo essa sia, a parte che ora ci sono riscontri anche di unione tra le varie etnie mafiose. Ma ormai la propensione per tutto il resto d'Italia, tutto il resto d'Italia, in modo da poter collocare sia pure idealmente, e ripeto, sottolineo idealmente, l'andrangheta che opera intorno alla Lombardia, la mafia che opera intorno al Piemonte e la camorra dalla parte del Veneto, che che ne dicano certi gruppi politici. Ecco, Senatore, in tutta questa lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, che si sta facendo anche con il pugno duro in tutta Italia. Quanto influirà la crisi economica? Influirà tantissimo, perché non potranno essere assunti nuovi agenti, nuove forze dell'ordine in genere. Quindi influirà. Influirà perché il personale si è visto tagliare fondi dal governo Berlusconi e dal governo Prodi prima e purtroppo anche adesso. E quindi questo influisce, influisce sul morale. Però io conosco, per averci vissuto 40 anni insieme, lo spirito che anima le forze dell'ordine. E allora, se non si possono assumere nuovi agenti, nuovi carabinieri, facciamo con quello che si ha. Ma cerchiamo di fare, cioè... Di valorizzare anche. Prego? Di valorizzare anche. Di valorizzare, questo lo do per scontato. Ma gli uomini non hanno bisogno di essere valorizzati. Si dedicano anime e corpo, nonostante i tagli e quant'altro. Ma sono pochi. Allora, recuperiamo gli uomini dalle tante scorte inutili. Recuperiamo uomini unificando le centrali operative in modo che ci sia maggiore efficienza e soprattutto maggior coordinamento sul territorio. Soprattutto maggior coordinamento. Recuperiamo, spostiamo alcune competenze, penso al rinnovo del permesso di soggiorno, è la prima cosa che mi viene in mente. Dall'acquistura, e così risparmiamo uomini, agli enti locali. Si può fare tantissimo nel recupero di uomini facendoli lavorare in modo coordinato, in modo molto più coordinato rispetto a quello attuale, sul territorio. Però sotto questo aspetto io sto facendo dei sogni. Perché sono anni che dico che bisogna unificare le centrali operative e farne una sola. Sono anni che cerco di far recuperare uomini laddove è possibile. E purtroppo... E purtroppo è un appello che da anni cade nel vuoto. Io sono sempre ottimista, sono sempre ottimista. Ora è un momento molto difficile per prendere queste decisioni riformatrici. È molto difficile per il problema economico, perché non si sa quanto si andrà a votare, non si sa con quale legge elettorale. Quindi ci sono problemi gravissimi sul terreno e sul tavolo. Allora, superata questa fase, e io mi auguro che questo si possa fare in uno stretto giro di tempo, allora bisognerà dedicarsi a questo tema della sicurezza e parallelamente, dico parallelamente, se no tutto quello che ho detto non serve a niente, a una riforma globale della giustizia che veda l'immediatezza del processo. Se vengo preso stasera con le mani nel sacco, io devo essere immediatamente processato. E la certezza della pena, di cui tutti si lavano, se mi consente l'espressione, la bocca, si lavano la bocca, ma poi poco si fa. se è vero come è vero che oggi nelle carceri italiane ci sono 70 mila detenuti, laddove le carceri italiane ne possono contenere 43 mila e 5, non vorrei sbagliare, di qualche unità. Beh, è stato chiarissimo, insomma, è necessario sicuramente un'azione, un'azione concreta, un'azione che il momento, la congiuntura economica, il momento politico, probabilmente non consentirà la realizzazione in tempi brevi, ma ci auguriamo insomma che vengano non solo presi in considerazione, ma anche portate avanti queste idee. Sono ottimista. Bene, abbiamo bisogno di ottimismo in questo periodo, molto. Senatore, grazie. Grazie a voi, di nuovo. Grazie a lei, un buon lavoro al senatore Achille Serra, senatore dell'Udc, ma come abbiamo raccontato è stato prefetto di Roma e attualmente a capo dell'autorità garante di Napoli.